Il recupero della ventiduesima giornata si è aperto con la sfida delle 14.30 tra Messina e Monopoli. I padroni di casa accorciano sulla quota salvezza diretta regolando i pugliesi per 2-1. Vantaggio con un gran tiro da fuori di Statella, raddoppio nel secondo tempo di Adorante. Il Monopoli rientra in partita con il clamoroso autogol di Carillo, complice a un infortunio del portiere Lewandowski. Oltre la gara del Selvapiana giocata alle ore 18, in contemporanea si è giocata Latina-Vellino. I campani non sono riusciti a scardinare la difesa del Latina, squadra che continua a godere di un ottimo momento di forma con 10 punti in 4 gare. Riprende la propria marcia il Bari che dopo il tonfo interno contro il Campobasso ha regolato la squadra a rivelazione del torneo il Picerno con un gol di Capitan Antenuccia all'inizio della ripresa. Questa vittoria ha permesso ai Galletti di guadagnare due punti in classifica sulla diretta antagonista Catanzaro, che non è andata oltre lo 0-0 sul difficile campo del Potenza. Vittoria fondamentale per la paganese di mister Grassadonia, la cui panchina era molto a rischio prima della trasferta di Catania. Al quindicesimo Pinto ha perso un pallone a centrocampo, dando via all'azione della formazione campana con Zanini, che dopo aver scambiato con Diop ha battuto Sala. Anche mister Sottili della Juve Sabbia ha messo a tacere i numors su un suo probabile esonero con la vittoria interna sul fanalino di coda vibonese. Vespa è in vantaggio al 55esimo grazie alla rete messa a segno da Bentivegna. Nell'ultima parte dell'incontro Ngom trova il gol del pareggio al 75esimo, ma ci pensa Eusepi a riportare avanti i suoi all'ottantesimo, trasformando il calcio di rigore. È stato stoppa poi alla fine a chiudere i conti definitivamente nel recupero e precisamente al 96esimo. Dopo cinque sconfitte consecutive, la Turris, prossima avversaria del Campobasso, è tornata la vittoria contro il Foggia. Al decimo il vantaggio dei locali con Santaniello. Galofaro ha illuso i rossoneri prima del raddoppio ancora di Santaniello. Al 34esimo della ripresa, Leonetti ha chiuso il confronto sul definitivo 3-1. Il Francavilla ha scavalcato l'Avellino in classifica, raggiungendo la terza posizione in solitaria nel derby pugliese contro la Fidelissandria. La rete decisiva è stata realizzata al 34esimo su un cross basso di ingrosso. Il più rapido è stato Mastropietro. Rinviata mercoledì 30 marzo la sfida tra Palermo e Taranto, la motivazione è legata alla necessità di preservare il manto erboso del Barbera, che ospiterà appunto gli spareggi mondiali tra Italia e Macedonia del Nord.